Ma chi ha detto che sono ossessionato da Allegri? Cioè è una roba assurda, cioè è una roba assurda. Sarebbe anche una cosa normalissima. Però, avere un canale che parla, non è che pubblico più di tanto qua in questo canale, però... Sinceramente, periferico di ventino, cioè non è che cambio qualcosa. Tanto, ragazzi, anche se potrei portare anche contenuti di gameplay, nulla mi vieta, nulla mi vieta. Però, essere ossessionato da Allegri, no. È anche perché, per, no lo so, per sfociare in qualche, in qualche altra news, in qualche altra visualizzazione, non news. Che cazzo dico? Qualche visualizzazione in più. Guarda, ve lo dico chiaro perché vuoi tanto... Eh, ragazzi, è difficile trovare contenuti se non si parla di Allegri. Perché Allegri è il punto focale di questa Juve in rovina. Di questa Juve in rovina la colpa è di Allegri. Quello è fuori discussione. Perché se qualcuno mi dice che non è colpa di Allegri se la Juve va di merda così... Io non so cosa farci. Perché se non sono i giocatori allenati da un allenatore competente, non c'è problema. Però, se c'è un allenatore che è lì, senza una fondamenta, un fondamento, un fondamenta di ragionamento tecnico e tattico, di qualsiasi ragione di poter vincere qualche obiettivo e di farci pensare che è un grande allenatore, quello che non è, adesso, in questo periodo, in questi anni, io, in questo canale, più di tanto, di portare gameplay, perché parlare anche a vambera, senza dire un senso logico, lo potrei anche fare. Così avrei abbastanza news, ma se non sparo cazzate, non vado su di visualizzazioni e scritti. Visto che maggiormente non vengono a commentare tanto sotto nei commenti, perché non porto contenuti eclatanti, cosa volete che parli, cosa volete che parli, cosa volete che esprima in questo canale? Se non che di parlare di Allegri, oppure portare qualche gameplay, è tanto. Il punto focale potrei anche portare più gameplay che parlare di Juve, perché tanto non mi interessa un cazzo di parlare di Juve. Adesso come adesso. Perciò, perciò, mi dite sotto nei commenti, qualche sponsor, qualche commento, tanto, per voi non cambia niente, ma per me vale anche un mi piace, ma soprattutto con un commento, non un'iscrizione, perché un'iscrizione non è obbligatorio, ma la condivisione. se condividete, se condividete questo video, oppure anche gli altri, sarebbe un pochettino meglio, piuttosto di iscriversi senza, diciamo, iscriversi con obbligo, perché io non obbligo nessuno ad iscriversi. Perciò, ragazzi, io porterò quello che riuscirò a portare, parlerò anche esprimendo cazzate, ragazzi, non lo faccio per lavoro, lo faccio per passatempo, intrattenimento, e poi, lo so che dipende da me, lo so che dipende da me, se porterò qualche iscritto, se porterò qualche fama di utenti che mi vorranno seguire, però ricordate che io non sono niente, anzi, in tutta YouTube non siamo niente, è solo il numero che ci cambia come classificazione di audience, è soltanto quel numero che vedete degli iscritti, ma alla fine non siamo niente, va bene? Va bene, ragazzi, ragazzi, io aspetto un commento se volete più gameplay, a parte che, ragazzi, dipenderà anche dalla dall' dall'analisi dell'età, ragazzi, se avete un'età avanzata, senza escludere il suo, senza, va bene? È difficile che vedete qualche gameplay, però, dai, non importa, basta portare qualche contenuto che sia divertente per me, divertente per voi, posto. con questo, con questo, ragazzi, io chiudo, e niente, se ho qualche novità ve lo dico, ma non vi aspettate niente, da questo canale, ve lo dico io perché, piuttosto, sono diretto, e sono semplice, come mi avete intuito, capito, da tanti anni, tanti anni, beh, insomma, diciamo così, e niente, ragazzi, io vi aspetto con i prossimi video, e niente, ragazzi, perché tanti, anzi, uno mi ha detto che tanto, si parla sempre di Juve, tu parli sempre di Juve, hai rotto le palle, tanto, chi non parla di, chi non parla di Allegri, non ha audience, non ha iscritti, non ha visualizzazioni, tanto, mi ha detto che, che rompo, cioè rompo, nel senso, nel senso, nel commento, ma, non l'ha pensato, comunque, ragazzi, a posto, dai, ci sentiamo, ciao ragazzi, ciao ragazzi,